Contamina Beat, l'origine del voto alla Madonna, è il nuovo progetto teatrale dell'Associazione Culturale Bobo Chanel. Un omaggio a Sassari e alla sua storia, ogni anno celebrata il 14 agosto con la festa dei Candelieri, che viene raccontato attraverso la farsa e lo stile buffonesco. Il servizio è a cura di Umberto Graziano. Non una ricostruzione storica, ma un punto di vista originale per raccontare la peste del 1652 in Sardegna attraverso il gioco buffonesco. Sicuramente non è una ricostruzione storica, piuttosto è un punto di vista attraverso il quale raccontiamo la peste in Sardegna nel 1652 e lo facciamo attraverso un gioco buffonesco. Contamina Beat, l'origine del voto alla Madonna, è il nuovo progetto teatrale dell'Associazione Culturale Bobo Chanel, un'opera di prosa originale in un unico atto. Una tragedia che parallelamente però viaggia attraverso la risata, una risata che sicuramente è amara, ma che serve un po' per stemperare la tensione di un argomento così crudo e dall'altra anche a raccontare il rovescio di quella medaglia, il rovescio della tragedia. La corruzione politica, i limiti della medicina nel tentativo di arginare l'epidemia. Non una ricostruzione fedele del periodo. Io sono stato molto felice di aver diretto questo simpatico gruppo di buffoni in questa meravigliosa commedia. In scena, venerdì 16 e sabato 17 dicembre alle 20.30, negli spazi dell'auditorium provinciale di via Montegrappa a Sassari, mette in evidenza i limiti e le debolezze degli esseri umani attraverso il racconto della situazione sociale di allora. Grazie.